Tu ti decidesi a fare qualcosa? Ma io posso cambiare, posso essere un uomo Silvano! Silvano no, è troppo tardi ormai, io ho conosciuto un altro ragazzo che mi vuole davvero, non come te. Tu sei stato il mio primo amore Silvano ma ora mi è finita. Addio! Oh mio dico! Cosa ti sei nata la calcolatrice? Eh, ho capito, ho capito, la patti ha detto che non puoi giocare a scarabèo con te stasera. Vuoi una manica di botte? Cos'è, hai esagerato con l'uomo mattino? Si può sapere cos'hai oggi? Ti ho detto che non ho niente! Non ho niente! 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 Luca? Occhino? Luca, scusami eh! Scusa Luca! Ma quando? Ma lo scarabèo ha il calcolo ambiente prima di tutto! Silvano, anche tu sei il uomo giusto per me Silvano! Sai che cosa faccio? Telefono a Francesco e gli dico che tra noi non ci può essere niente perché io sto già con un altro. Silvano, vado a prendere la giacca? Sì! Scusami qua! Mi muovi da qua! Togo! L'ho fregato io quello là! Silvano? Sì, cos'è? Silvano, mi apri la porta, grazie! Luca, ecco, mi vuole chiederti scusa per prima, davvero. Io non so cosa mi hai preso e poi per quel riborso si è tutto al posto. Però ti prego, non ti vendicare, risparmiami, Luca, risparmiami. Pronto? No, mamma, non torno questa sera. Eh no, ho un impegno. Il caffè? No, no, ti prego, mamma, no. Ma torno presto, mamma. Ti prego, ma... Il caffè? Va bene, arrivo subito. Oh, sveglia, ve lo faccio il caffè? Si può sapere cosa hai oggi? Ti ho detto che non ho niente, va bene, niente? Voglio farti curare. Ti ho detto che non so ti faccio, che ne va, fermati, che ne riguarda manchetta!